8 o 9 mesi senza prendere lo stipendio e in più i soldi per poter raggiungere il posto di lavoro. Una situazione che diventa sempre più complicata per le centinaia di operai forestali della comunità montana, non solo del Vallo di Tiano naturalmente. Ma dopo le proteste, gli scioperi, le richieste di interventi e di aiuto, alcuni operai hanno scelto un'altra strada, far vedere che lavorano nonostante le difficoltà. E così alcuni di loro hanno deciso di usare i social network per pubblicare il video mentre lavorano tra le montagne del proprio cantiere. Gli operai forestali del cantiere di Atena Lucana della comunità montana Vallo di Tiano, scrivono in un commento legato al video, continuano sempre a fare il loro dovere. Questo nonostante, aggiungono, non percepiscano gli stipendi da 7-8 mesi. A questo va aggiunto il fatto che per raggiungere il luogo di lavoro servono circa 200 euro al mese. Una situazione difficile, ma il nostro senso di responsabilità verso il territorio, l'ambiente e il lavoro ci fa continuare a esprimere il massimo impegno. Un video che è stato visualizzato da numerose persone e con commenti di solidarietà vari. Si tratta di decine di migliaia di euro di arretrati per ciascuno degli operai, ai quali si aggiunge la beffa di pagare circa 200 euro la benzina per raggiungere il luogo di lavoro. Una situazione difficile e ora si spera che attraverso Facebook possa essere lanciato il messaggio e ricevere sostegno dagli enti interessati.